Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video prima di passare all'argomento principale del video vorrei porvi le mie scuse per questa inattività del canale ma per motivi personali tra cui anche l'organizzazione per Rimini non ho potuto far video tantomeno caricarli quindi vi chiedo scusa tuttavia vi ringrazio per il traguardo che abbiamo raggiunto ossia 1600 iscritti per la precisione mi sa 1605 ma ok quindi veramente grazie farò uno speciale verso settembre in quanto non penso di riuscire in questa settimana e vabbè comunque sia passando all'argomento del video dopo il piccolo successo che ha avuto il primo torneo fra YogiTubers ho deciso di organizzarne un secondo quindi sedetevi comodi non cominciate a prendermi a insulti dato che lo sto organizzando prima del OECS ok mettetevi comodi e ascoltatemi bene chi sono i partecipanti? i partecipanti siete voi se siete interessati basterà scrivere qui sotto partecipo nel caso siate tipo più persone in un canale basterà scrivere partecipo con il nick che avete nel vostro canale appunto quindi molto semplice non ho ancora imposto un limite massimo pensando che non molti visualizzeranno questo video quindi non penso ci sia il bisogno di imporlo appunto tuttavia non vorrei che i partecipanti siano troppi altrimenti sarebbe molto ma molto difficile da gestire quando avverrà il torneo? il torneo ci sarà dopo il YCS ok quindi con calma in questi giorni mi sembrava inutile farlo così come la settimana scorsa in quanto molti stanno testando per il YCS stanno cercando di organizzarsi come sto facendo io e quindi mi sembrava una cosa inutile letteralmente quindi dopo il YCS ci sarà questo torneo quindi verso settembre ve la confermo ve la darò sulla pagina facebook che vi consiglio assolutamente di seguire per il torneo soprattutto e nulla dovreste anche mandarmi le decklist quindi ora vi dico il formato che verrà utilizzato come promesso il vincitore dello scorso torneo Siamatek ha deciso il formato da utilizzare che ha proposto a me e agli altri YugiTubers quindi il formato che verrà utilizzato non è quello del 2011 nemmeno quello del 2010, 2014, 15, 16 vabbè non si sa di 2016 comunque il formato che verrà utilizzato è quello di NewGio il link è qui sotto in descrizione per qualsiasi informazione cliccate appunto sul link e cosa posso dirvi che le carte utilizzate sono quelle fino comprese le stampe, mazze e roba varia le carte che possono essere utilizzate sono quelle che vanno fino a rivoluzione cibernetica cibernetica vabbè infine dove si terrà il torneo il torneo si terrà su due link network skype yugio pro dev pro insomma dove volete basta che vi è più comodo skype dubito dato il formato utilizzato comunque sia la top 4 dovrà essere per forza su due link network perché dovrò filmarla e su skype appunto vabbè escludiamolo yugio pro dev pro mi lagga molto ma molto molto quindi non mi è possibile filmare filmare quindi mi inviterei a utilizzare più due link network insomma penso di aver detto tutto se avete qualche domanda scrivete qui sotto nei commenti non vi è chiaro qualcosa scrivete tranquillamente non mi date fastidio se non risponde perché sarò assente a casa sto cercando di organizzarmi insomma queste cose e il mio consiglio è quello di contattarmi sulla pagina facebook in modo tale che risponda molto più probabilmente ecco e niente altro quindi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale seguitemi sulla pagina facebook e niente grazie ancora per il 1600 iscritti e arrivederci al prossimo video grazie a tutti